Postura poco ergonomica con il collo spesso piegato, polsi praticamente immobili, utilizzo eccessivo del doppio pedale, pochissima dinamica, tanti blast beat, veramente una macchina umana, il batterista perfetto da essere preso di mira dai boomer puristi. Sto parlando di Chris Turner. Se anche tu non sei un boomer purista, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella, seguimi su Instagram e su TikTok perché pubblico video tutti i giorni. Chris Turner è forse l'unico batterista metalcore ad aver avuto più fama della sua stessa band. Ma come mai? Chris Turner nasce a Birmingham il 26 settembre 1993, in una famiglia di tutti i musicisti. A soli 4 anni assiste a un concerto del padre, anche lui batterista, e decide che da quel momento anche lui avrebbe dedicato tutta la sua vita alla batteria. Per i primi anni sarà proprio il padre a fargli da insegnante, ma si sa, non si ascolta mai quello che dicono i genitori. Chris comincia a studiare in una scuola di musica locale, ma la vera formazione la fa grazie alle jam session, che può permettersi di fare in famiglia e con gli amici dei familiari, ancora prima di diventare teenager. Chris nasce col groove nel sangue. The Matthews Band, Sting e i Police sono i suoi più grandi riferimenti. Purtroppo, sempre dal punto di vista dei boomer, Chris scopre la musica pesante grazie ai Linkin Park, ma la voce di Chester è stata solo l'esca per un vortice molto più grande che l'avrebbe travolto per tutta la vita. Presto avrebbe conosciuto i Between the Barrier and Me, band progressive metal moderna molto interessanti. Se li conosci, scrivilo nei commenti. Da lì a Chris nasce la voglia di padroneggiare blast beats e doppio pedale come nessuno avrebbe mai fatto. Cosa rende lo stile di Chris unico nel suo genere? Riassumerò tutto il suo magnifico drumming in sei punti chiave. Nel 2010, Chris fonda il suo attuale progetto Ocean State Alaska, band progressive gent metalcore che già con i primi due singoli diventano virali sul web. Nel 2012 firmano con l'etichetta americana Fearless Records e cominciano a fare tour in tutto il mondo. Cosa ha questo progetto di speciale? Non si capisce un c***o di niente. Ti piace? Non ti piace? Non è musica? Loro comunque suonano quella roba lì. Ed è proprio la prima cosa che si nota nello stile di Chris. Il suo drumming è eccessivamente complesso. I concetti di spazio e tempo con lui perdono di significato. I tempi non sono né pari né dispari. I groove cambiano metrica continuamente. Figure stortissime. Pattern da ambidestro. Ripeto, può piacere o non piacere. Ma di batteristi che suonano così ce n'è uno. In ogni caso, Chris è molto di più di un batterista che suona storto. La seconda cosa che salta di più all'occhio è la sua tecnica strana. Suona molto alto sullo sgabello. La schiena e il collo sono spesso piegati in posizioni poco raccomandate da un fisioterapista. Usa gli avambracci a discapito dei polsi. E usa le gambe a discapito delle caviglie. Sulle sue gambe torneremo tra un po'. Questo suo modo di suonare non gli impedisce di avere un drumming massivo, potente e soprattutto preciso. Infatti, la terza caratteristica del drumming di Chris è che è eccessivamente preciso. È letteralmente una macchina umana. E qui apriamo un aneddoto. Durante le registrazioni dell'album di Cari, Chris si impone di non volere usare samples nelle registrazioni della batteria. Inizialmente, il producer Nick Samson era titubante al riguardo. Ma quando vide con i suoi occhi le batterie registrate da Chris, ci rimase di stucco. L'orecchio umano riesce ad accorgersi di anticipi o ritardi nei colpi se questi sono circa di 8 millisecondi rispetto allo click. I colpi di Chris si discostavano di soli 2-3 millisecondi dalla griglia. E questo è inumano. Nick decide quindi di non usare samples sulla batteria e neanche di editarla. Veniamo ora al vero punto di forza di Chris. Quello che lo ha fatto diventare un fuoriclasse inarrivabile. La tecnica del doppio pedale. Andrò abbastanza sul tecnico. Quindi se non sei un batterista o un amante della batteria, ci sono i capitoli qui sotto e puoi schippare al capitolo successivo. Ma se invece sei interessato, non userò termini troppo tecnici. Chris suona senza scarpe, con la sola gamba piena, a prescindere dai BPM, a prescindere dalla potenza. Schiaccia i battenti contro la cassa e questo perché nella sua visione del doppio pedale, lui allena le gambe a terra, tranquillamente sul pavimento. Ma non è del movimento che ti voglio parlare. È di quello che suona con quel movimento. Chris è l'unico batterista al mondo che è totalmente ambidestro con i piedi ed applica questo al metal. Prendiamo ad esempio una figura semplicissima. Due sedicesimi e un ottavo. Se volessimo suonare questo pattern ciclicamente, rispettando l'ordine canonico dei piedi, noi dovremmo suonarlo come piede destro, piede sinistro, piede destro. E di nuovo, destro, sinistro, destro. Suonandolo in questo modo, il pattern risulta facilmente coordinabile con le mani. Ma portarli in velocità è praticamente impossibile. Infatti il piede destro suona sempre, non si ferma mai. E questo ha un limite. Chris sceglie di alternare di continuo i piedi. Ovvero, suona prima destra-sinistra-destra e poi sinistra-destra-sinistra. In questo modo, la velocità non ha più limiti. L'unico limite che ha questo approccio è la coordinazione. La difficoltà nel coordinare questo con le mani, facendo sì che abbia tutto groove, è fuori di testa. Scambiare i piedi in questo modo apre altre infinite possibilità di pattern. Prendiamo ad esempio un rullo a 5 in colpi singoli. Oppure un rullo a 7. Ma anche mischiare tutto quanto. Le possibilità sono pressoché infinite e Chris riesce a padroneggiarle a qualsiasi BPM. Come si vede benissimo da questo breakdown. Se conosci un altro batterista metal che suona in questo modo, scrivilo nei commenti. La quinta caratteristica di Chris Turner, a mio parere, è la creatività. È una creatività molto particolare, comunque circoscritta al suo stile. È creativa a modo suo. Utilizza tantissimi ghost notes, piatti al posto dei tom, tantissimi splash, stack, mini china, mini bell. È molto particolare come stile, ma non lascia niente al caso. Riesce a passare davvero a 100 in un nanosecondo. Come si può benissimo sentire nel suo album solista, Steezy. Questo mix tra gent, metalcore, progressive e trap ha reso Chris Turner ancora più popolare della sua stessa band. Guadagnandosi così un trono nell'Olimpo dei batteristi metal, tanto da poter vantare una collaborazione con niente po' po' di meno che Thomas Lang. L'ultima caratteristica di Chris è un utilizzo molto particolare dei blast beats. Difficilmente vedrai Chris suonare un blast beat in modo tradizionale. Piuttosto lo sentirai suonare un blast beat che io chiamerò flam blast beat, perché deriva dagli sticking con i flam. Ovviamente lo suona sia da destro che da mancino. Mentre mantiene quello sticking con le mani, con i piedi è libero di suonare tutti i pattern che ti ho spiegato nel punto 4. Mi rifiuto di farti una dimostrazione, per ovvi motivi. Sicuramente è un batterista molto molto particolare, può non piacere, può far storcere il naso la prima volta che lo si vede, ma se riesci a capire quello che sta suonando, vedi veramente un ammontare di ore di studio e una dedizione tale che non può essere rinnegata. Potenza disumana a BPM altissimi, creatività, groove molto particolari mai visti prima e un utilizzo del doppio pedale veramente tanto all'avanguardia. Chris ha preso quello che un batterista riteneva impossibile e l'ha reso possibile. Il suo modo di suonare ha aperto le porte a cose che prima non c'erano e chissà dove si arriverà ora. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, mi raccomando scrivi nei commenti qual è il prossimo batterista che vorresti vedere su questo canale, iscriviti al canale, seguimi su Instagram e su TikTok e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video.